we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi parliamo anche di dove raccogliere gli anelli fluttuanti a foresta frignante il primo lo abbiamo appena passato siamo proprio nell'albero sotto alla s di weeping woods andando avanti ed arrivando dove c'è la montagnetta distruggiamo l'albero che avete appena visto proseguiamo sul secondo facendo una rampa ed ecco ragazzi che proprio sopra quest'altro albero di fronte troverete la torretta possiamo raccogliere il secondo è davvero chiarissimo dov'è la posizione proseguendo ragazzi facendo sempre un bel po' di rampe vi consiglio di sfruttare la rissa squadre per fare questo giro raggiungiamo l'ultimo albero alla destra quello praticamente che poi da verso la piccola mini agenzia dove troverete un altro anello fluttuante e mantenendo sempre l'agenzia a destra e proseguendo troverete il prossimo anello che è proprio nell'albero qua davanti ragazzi veramente molto semplice una volta che avete capito potete rivedere al contrario anche il percorso raggiungiamo quindi il quinto ed ultimo anello una volta sorpassato il forziere alla base dell'albero come vedete ragazzi lì avanti troverete l'ultimo anello della catena insomma ragazzi anche per questo video io vi ho detto le posizioni degli anelli vi ringrazio tantissimo per averlo guardato mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao